Grazie a tutti. Sottolineare e quindi evitare l'eccesso di medicalizzazione che c'è relativamente agli apprendimenti e cercare di ridare alla scuola la competenza che le pertiene e che sicuramente è più specifica di quella che possono avere gli specialisti. Allora, credo che sulla fenomenologia del disturbo le insegnanti ne sappiano molto di più di qualunque altro, quindi non credo che una diagnosi serva per dire che il bambino pospone, ha le doppie o fa errori di questo tipo. L'intervento specialistico è determinante per stabilire che il bambino non abbia deficit di altra natura e possibilmente, quando possibile appunto, cercare di definire la causa della situazione. Allora, noi sappiamo che abbiamo due grandi filoni che sono da una parte il disturbo specifico d'apprendimento e dagli altri i disturbi di apprendimento. Nel disturbo specifico sappiamo che noi siamo in presenza di un bambino che non ha problemi sensoriali, non ha problemi cognitivi, non ha problemi e che fa questi errori. Ci sono alcune cause, si faceva riferimento in apertura al fatto che effettivamente non possono essere tutti i bambini con disturbo genetico e d'altra parte il fatto che ci siano delle evoluzioni diverse ci spiega che evidentemente ci sono delle origini diverse. È evidente che l'apprendimento viene dopo il momento in cui il bambino impatta con l'apprendimento e quello in cui deve fare un salto da tutto ciò che abbiamo detto relativamente al linguaggio ad un livello ancora di maggiore astrazione perché non c'è l'interlocutore che facilita la comunicazione, il bambino è per la prima volta solo con se stesso. La comprensione implica un atto profondamente solitario ed implica che il bambino abbia sviluppato tutta una serie di meccanismi che se non, come vi dicevo anche ieri, se le tappe precedenti non sono state acquisite è evidente che il bambino avrà difficoltà nel momento in cui arriva ad una richiesta superiore. Ora, nell'età scolare noi dovremmo parlare, oltre al disturbo specifico, dei disturbi di apprendimento. Allora, il bambino, i canali che ha per esprimere il suo disagio sono quelli che riguardano le prestazioni che gli vengono chieste, quindi al di là di quei disturbi dei primi tre anni che possono andare sul comportamento sullo condotto e di base, poi abbiamo questi due grandi filoni che sono un disturbo del linguaggio e successivamente un disturbo di apprendimento. È evidente che se un bambino non ha adeguatamente sviluppato il linguaggio, le sue differenziazioni fonetiche, eccetera, si porterà nella scrittura gli errori che ha nel linguaggio verbale. Comunque, diciamo che la maggior parte dei disagi in età scolare si verificano come disturbi di apprendimento. È un grande passaggio, è un cambiamento, non solo perché c'è una richiesta prestazionale maggiore, ma c'è un ambiente sociale diverso. È anche molto caricato il momento della scolarizzazione, se è grande va in prima. Quindi molto spesso i bambini sono investiti di questo. Vorrei solo molto brevemente dire e ricordare una ricerca che abbiamo fatto insieme alle insegnanti in cui la conclusione era, dove abbiamo aiutato le insegnanti a decifrare i problemi che rispetto alla percentuale più o meno del 4%, si parla così, parla il Ministero, abbiamo trovato una percentuale che saliva invece al 25% per i bambini anticipatari. Credo che questo dato ci debba far riflettere profondamente, e mi riferisco alle cose che diceva la dottoressa Filippetti, questa corsa per poi doversi arrestare. Credo che su questo tutti quelli che lavorano nell'infanzia dovrebbero veramente, dovremmo tutti lottare perché ai bambini venga conservato il diritto alla loro infanzia. Quindi è evidente che, dicevo, se non ha una competenza linguistica non avrà delle sue difficoltà ed è necessario che abbia interiorizzato tutti i codici comunicativi per poter avere accesso a un sistema più complesso. Ovviamente quali sono i prerequisiti? Quindi un'adeguata strutturazione linguistica, un'adeguata organizzazione percettiva e su questo io mi vorrei soffermare perché abbiamo voluto anche nell'intervento di venerdì l'intervento dell'optometrista perché c'è una grande confusione. Noi da molti anni ringrazio la dottorezza Bruzzi Chessi che 30 anni fa ci ha edotto sui problemi delle funzioni visive motorie che sono diventate parte integrante della nostra modalità di osservazione perché molte disorganizzazioni delle funzioni visive motorie sono disattese e ci si ferma semplicemente alla considerazione, l'avete sentito venerdì, su un'adeguata acuità visiva ma se non sono adeguate le funzioni motorie il bambino non è in grado di seguire, di inseguire, di trovare il rigo tutti quei meccanismi di accomodamento che determinano deficit di attenzione. Quindi molto spesso noi imputiamo semplicemente a problemi comportamentali quello che invece è da comprendere anche in termini neurofisiologici. Quindi sollecito proprio, sarebbe nel bilancio di salute del bambino di sei anni fare un approfondimento visivo e sollecito questo perché veramente tra l'altro devo dirvi che noi stiamo montando un aumento. Su questo bisognerebbe fare una considerazione perché tutti i nostri bambini hanno un calo nelle funzioni esecutive e siccome non può essere anche qui un'epidemia noi ci dobbiamo interrogare su cosa sta avvenendo socialmente che non consente ai nostri bambini di sviluppare quelle funzioni motorie a partire dai 2-3 anni che tutte insieme integrate permettono poi di acquisire i livelli superiori. Ovviamente ci deve essere un adeguato livello cognitivo e fondamentalmente una maturazione affettiva perché molti bambini arrivano alla prima elementare, questo è il problema degli anticipatari, magari sanno già scrivere ma il problema è che non hanno la maturità affettiva per reggere il confronto con i coetanei, con un gioco strutturato in maniera diversa e soprattutto con le richieste che un adulto automaticamente fa pensando che il bambino abbia raggiunto quel livello. Per cui noi abbiamo bambini che mostrano poi atteggiamenti e profondamenti regressivi e che ci vengono portati in terapia e sono aumentati anche proprio i disagi, le cosiddette quelle che una volta andavano sotto fobia scolare che oggi chiamiamo ansia sociale, per cui questi bambini hanno poi una difficoltà ad affrontare la scuola pur essendo dei bambini in grado di adempere agli apprendimenti. Ovviamente è necessario un adeguato sviluppo sociale. Diciamo queste sono le due grandi categorie, allora quale dovrebbe essere l'impegno dello specialista? differenziare all'interno di questo grande mondo i problemi sottesi, perché molti disturbi di apprendimento l'altro anno l'abbiamo sentito in maniera particolare nell'intervento sulla diagnosi e sulla depressione, molti problemi di basso tono dell'umore e di depressione si trasformano in disattenzione ai problemi di apprendimento. Quindi è proprio importante che lo specialista sappia differenziare perché è evidente che l'intervento è totalmente diverso. Se mi trovo di fronte ad un bambino depresso, inibito, che dovrò aiutare ad amplificare le sue espressioni e se lo pongo di fronte a una prestazione che determina frustrazione, io non faccio altro che alimentare quello stato depressivo che era la base della sua inadeguatezza. Quindi è estremamente importante discriminare e differenziare i vari quadri. Qual è il lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni? È stato quello di cercare di evidenziare delle tipologie di bambini. Una delle cose che sempre ci ha colpito è quanto questi bambini fossero immaturi, dipendenti da un punto di vista affettivo oppure essendo bambini brillanti considerate che per avere una diagnosi di DSA, a parte il fatto che a volte viene fatta per motivi burocratici, eccetera, però noi dobbiamo avere un bambino brillante emotivamente. L'altra cosa, e oggi daremo un piccolo spazio a questo, è differenziare, noi abbiamo un numero altissimo di bambini molto intelligenti, differenziare tra questi il gruppo dei bambini plus dotati che sono un altro problema, un'altra emergenza che ci sta riguardando il mondo dell'infanzia. Questa mancanza di autonomia da un punto di vista affettivo, peraltro diciamo anche questa ha delle radici storiche perché veramente negli anni 70 c'era stato un movimento interessantissimo, New Looking Perception, che aveva proprio stabilito il fatto, aveva descritto questi bambini come dei bambini campodipendenti. Campodipendenti dal punto di vista campo foglio, campodipendenti da un punto di vista psicologico. La campodipendenza organizzativa veniva proprio valutata dal fatto che questi bambini non riescono a differenziare la figura dello sfondo, sono assolutamente presi dai distrattori visivi, cioè la pagina funge da distrattore visivo, tant'è che in molti casi si faceva il metodo ed è utilissimo. Io vorrei, scusate lo dico perché ho le mie fisse, quando ancora si usava il ditino funzionava benissimo, poi è diventato un po' demodesto il ditino che accompagna la riga, però io vorrei inneggiare il ditino perché è un grandissimo accompagnamento. No, perché poi abbiamo inventato i metodi, le finestrelle, le cose, invece proprio il ditino che segue la riga aiuta a non spostare riga. È una cosa semplice, il ditino ce l'hanno tutti. E quindi, diciamo, questa campodipendenza, che è una campodipendenza affettiva, siamo pieni nei nostri racconti in una ricerca con la dottoressa Vichi e il dottor Bianchi, abbiamo cercato di vedere nell'anamnesi tutte le caratteristiche di questi bambini ed erano tutti bambini che avevano avuto una difficoltà nelle condotte di separazione già nella scuola materna, bambini che a tutt'oggi, nel momento in cui li vedevamo, avevano difficoltà nella separazione notturna, per cui avevano bisogno di dormire con i genitori, avevano ancora delle difficoltà sui problemi alimentari, per cui c'era ancora una dipendenza, il bisogno di mangiare selettivamente cose frullate. Allora, tutto questo noi non lo possiamo considerare avulso dall'elaborazione e dalla capacità del bambino e dobbiamo occuparci, prima che impari a scrivere, che tutte queste condotte siano state adeguatamente vissute ed elaborate. Quindi è un appello a tutti gli insegnanti della scuola materna e a tutti i genitori, soprattutto, che accompagnano i bambini alla scuola materna, a cercare di lavorare sulle attività che sono fondamentali in quel momento per poi arrivare alla scrittura. Ricordo sempre che si dice che il primo ciclo, il primo e il secondo elementare, servono per leggere e scrivere e adesso, a dicembre del primo anno, bisogna scrivere. E questo è assolutamente contro tempo del bambino. Ok, allora, che cosa significa una scarsa maturazione affettiva? Che c'è uno scarso adattamento. Io vi ho fatto soltanto una slide e vi rimando all'intervento dello scorso anno, al convegno che trovate sul sito della dottoressa Di Risi Occhessa e alla ricerca che abbiamo condotto con l'Università di Padova su un campione di 100 bambini. Allora, scarsa maturazione affettiva significa scarso adattamento psicologico, substrato affettivo caratterizzato da sintomi di ansia, soprattutto da separazione, come vi dicevo, ansia relativa all'integrità fisica propria e dei genitori, elevati livelli di risorse pro-sociali. E questo è invece quanto emerso nella ricerca dal Varteg, rimando al libro di Slessie, al capitolo sul Varteg del dottor Crisi, e anche qui è venuto in maniera preponderante il problema di ansia da separazione, ansia sociale con indici di capacità relazionale più negativi rispetto al gruppo di controllo, basso tono dell'umore, minore integrazione delle aree psicoaffettive. Allora, tutti questi aspetti riteniamo che siano indispensabili, che il nostro lavoro di specialisti sia quello di indagare il più possibile queste aree. I nostri interventi, come sentirete, nell'ambito dell'apprendimento, sono profondamente differenziati, unici per ogni bambino, l'abbiamo mai ripetuto fino all'esaurimento, e io voglio lasciarvi con alcune immagini, perché è una cosa che stiamo studiando da anni, anche già abbiamo pubblicato dei dati di una ricerca sul disegno dei bambini dislessici, perché vi ricordo che sono bambini tutti intelligenti, stiamo parlando, i bambini che vi faccio vedere sono tutti di intelligenza media superiore, quando non superiore, è quello che ci colpisce, e bambini, questi dei disegni che vi faccio vedere, che non hanno disorganizzazioni percettive. Allora, il disegno, che è uno dei principali strumenti del bambino, che è manifestazione da una parte dell'evoluzione cognitiva che ha raggiunto, ma dall'altra, della maturità affettiva che ha potuto ottenere, ovviamente ci parla, diciamo, non si può fare una diagnosi con il disegno, ma anche sì, se corroborata da tutto il resto, e quello che ci colpisce è la povertà del disegno di questi bambini. Una povertà che noi possiamo a questo punto ascrivere, sicuramente ha una dimensione affettiva e non cognitiva, premesso che i parametri cognitivi e percettivi sono più che adeguati. E questa povertà nel disegno, e sono bambini che molto spesso, tranno le rare eccezioni, non amano disegnare, e esprimono pochissimo la processualità immaginativa nel disegnare. Anche qui vorrei dire, ci sono bambini, e prima ancora della scolarizzazione, che esprimono il loro pensiero metaforico, soprattutto a livello verbale, bambini inventori di metafore, che non amano disegnare, che possono farci un disegno con tre zeppetti e raccontarci una storia che non finisce più. Al contrario, ci sono bambini che hanno una ricchissima capacità metaforica a livello grafico, che sono degli inventori, dei compositori artistici e che hanno una verbalizzazione essenziale. Queste sono due normalità, due tipologie. Ci sono modalità diverse di sviluppo. La caratteristica che abbiamo trovato nei nostri bambini dislessici, questi che vi faccio vedere, sono solo DSA, non disturbi di apprendimento che potrebbero chiamare in causa altre cose, perché la differenza che noi facciamo tra queste due categorie in ambito diagnostico è che nei disturbi di apprendimento potremmo avere una complessità di cause e quindi non avere l'integrità di tutti i fattori che vi ho detto prima. E quindi potrebbe avere un disturbo di apprendimento anche un bambino che ha un deficit cognitivo, per esempio, ma è un'altra storia. Allora, io vi faccio vedere un po' in sequenza, sotto vedere M significa maschio, l'età, questo è il disegno della figura umana, il disegno che vedete a sinistra è come viene fatto il test della figura umana, si chiede inizialmente di disegnare una persona e solo quando il bambino l'ha fatto si chiede di disegnare una persona dell'altro sesso. Quindi già è indicativo di un'identificazione sessuale il fatto che un bambino maschio disegna il maschio per prima, questo così, indicazione generale. Ma non è questo il problema. Io vi invito ad osservare questi disegni e non è mia intenzione fare l'interpretazione psicologica, voglio vedere soltanto il livello di maturazione. Questi disegni come vedete sembrano stare per aria, allora vi ricordo che se un bambino nel disegno non ha raggiunto la linea di terra non può avere l'allineamento, quindi è fuori luogo chiedere a un bambino di scrivere se ancora non ha raggiunto un'organizzazione spaziale adeguata, perché l'allineamento è quello che permette, spaziale, permette poi la sequenzialità temporale, parto da sinistra e vado a destra. Allora, vedete che queste due figure sembrano sospese nell'aria, anche, perché sono a metà foglio. Considerando che il bambino ha 9 anni e 2 mesi, possiamo considerarlo da un punto di vista cognitivo, sono presenti per carità a tutte le parti, però potremmo definirlo un disegno molto povero per l'età. vi ricordo che sono bambini molto intelligenti. È come dire, il disegno della figura umana è diverso da chiedere di disegnare una casa, un albero o qualsiasi altra cosa, perché implica necessariamente un'identificazione e se un bambino non ha raggiunto un'adeguata maturità affettiva, diciamo, uno dei disegni che farà peggio è proprio quello della figura umana. E tra l'altro vi dico che per rendere visibili i disegni hanno dovuto aiutarci con dei ritocchi, questo per farvi capire che tratto che c'è, vedo che sentite, quanta poca forza c'è nel tratto, che è ovviamente una cosa molto significativa. Vedete come sono infantili, più infantili, questo è un bambino di 11 anni, che se vedessimo solo il disegno penseremmo a un bambino molto più piccolo. Mi dispiace, ma veramente... Però mi sa che questa era la... Vabbè, lo dico alla regia, ce n'era una in cui l'avevamo calcata di più. Pazienza. 12 anni. 11 anni. Questo è andato un po' sullo stile... Insomma, si è salvata con lo stile un po' ex Candy Candy, un po'... Cioè, entrando in uno schema è riuscita a non poverire troppo, no? Questo non ha fatto la seconda. E anche questo è molto significativo da un punto di vista emotivo. Idem. C'è solo la prima. Disegno della famiglia. Su questo trovate ampie descrizioni nel libro sulle dislessie. Era anche qui. Vedete? Famiglie un po' sospese. Non c'è relazione tra i partecipanti. Sembrano salvarsi quando fanno cose un pochino più articolate secondo gli schemi cartoni o altro, no? Qui è stato messo il cane al posto del fratello. E su questo è carino, insomma. Ok. Qui abbiamo... Insomma, non si capisce bene, forse non c'è una mamma. questo è molto strafighetto. Però, certo, è significativo, no? Che, non so, sembra tutto molto grande, ma c'è un bambino molto piccolo col palloncino dietro che... mi fermo qua, no? Sta dietro, qualcuno lo vede, grazie. Facciamo aggiunto qualcuno di famiglia allargata, insomma, però sempre vi faccio notare molto spesso mancano le mani, molto spesso manca proprio tutto ciò che dovrebbe fare relazione. Vedete le figure molto infantili. Questo ha messo solo il volto. questa è la famiglia. Questo è un mondo... la parte spaziale è molto importante, avremo modo di dircelo e quindi non vi tedio perché voglio proprio andare veloce. E queste sono le ultime immagini che voglio farvi vedere. Abbiamo fatto... ne abbiamo centinaia, ne abbiamo prese un po' l'una per l'altra. Che cosa... la richiesta è molto semplice, penso che tutti la conosciate, mi disegni un omino sotto la pioggia. E si valuta un po' il rapporto che il bambino ha con la frustrazione. Cioè, se piove tanto, se si è difeso dalla pioggia, che succede? io questi disegni mi è venuto di dargli un titolo che è Fantozzi e la sua nuvoletta. Perché? La maggior parte dei casi piove solo dove sta lo sfigato, poveraccio. Perché attorno non piove. No? C'è proprio la nuvola solo su di lui, però almeno c'ha l'ombrello. questo povero è terribile perché proprio la nuvola ce l'ha sulla testa e gli piove accanto ed è proprio non so come fare, non c'è possibilità di riparo. Questo è uno, tra l'altro, dei bambini plus dotati che ha potuto almeno immaginare questo è un disegno molto creativo, l'unico che abbiamo su centinaia di disegni dove almeno ha potuto immaginare che poi smetterà di piovere. Questo c'è proprio le gocce tutta attorno. Cioè, è incredibile. No, senza commento, insomma, ok. questo ha provato sotto l'albero, insomma, dice, vediamo un po'. Vedete come, cioè, è proprio come se ci fosse qualcosa che proprio opprime loro, no? Arriva su di loro. Questa c'è l'ombrello però sta di lato e infatti il fulmine gli arriva in testa. che si è tolto quel tanto che gli possa arrivare dritto in testa il fulmine. Questo anche c'è l'ombrello di lato con le sue nuvole. Vedete quanto è comune? Veramente avrei potuto portarvene. Diciamo che il 90% dei disegni sono così. Questo ce l'ha solo intorno alla testa la pioggia. Questo anche, le gocce gli arrivano su. Questo insomma quasi quasi ce la fa un pochetto a mettersi l'ombrello. Qua non si sa c'è un'invasione di robe. Questo invece è tutto. Non c'è spazio che non sia invaso dalla pioggia e non ha nulla per ripararsi. Questo se oltre alla nuvoletta di sbiego gli arriva anche il fulmine questo l'ha pure colorato perché sta cominciando a trovare delle risorse. Io ho visto tutti questi disegni senza abbiamo fatto questo esercizio con Paola Vichi cioè l'ho visto senza sapere niente di nessun bambino poi l'abbiamo riappropriato e questo era già un bambino che stava cominciando a fare un suo percorso e quindi aveva già trovato un umbrello da mettersi sopra la testa insomma. Bene credo che dobbiamo interrogarci su questa pioggia su quanto pesiamo su questi bambini e fornirgli tanti ombrelli grazie grazie